Io ho il piacere oggi di rappresentare, l'onore di rappresentare Cacopro Aiuto, la cui anima operativa in realtà è Flavio Ferrari che penso che tutti voi conosciate. Personalmente è un piacere essere qui nel San Gerardo, struttura dalla quale ho avuto, con la mia famiglia, ho avuto necessità di aiuti, di paleri medici, ottenendo sempre una grande professionalità, una grande umanità, soprattutto quando si parla del settore di oncologia, che è un settore molto delicato. Oggi, con questa nuova macchina, con questo nuovo ecografo, ancora una volta diamo un nostro contributo a far sì che, laddove ci sia l'eccellenza, il San Gerardo di Monza è un ospedale che rappresenta un'eccellenza lombarda, strumenti moderni, affiancati a competenze professionali eccellenti, siano in grado di dare il miglior contributo per chi soffre di malattie legate all'ambito dell'oncologia. Quindi, ringraziamento a Nicola Caloni, che è già stato menzionato prima di me d'obbligo, visto che l'importante contributo della società Caloni ha permesso di fornire questa apparecchiatura, da parte nostra noi continuiamo incessantemente a lavorare affinché il malato oncologico si senta seguito, si senta al centro dell'attenzione in un momento della propria vita in cui ha bisogno non solo di una qualità professionale medica per essere curato, perché grazie al cielo oggi in tantissimi casi si può guarire, si guarisce, ma anche per sentirsi in qualche modo, perdonatemi il termine accudito, cioè sentirsi intorno un'attenzione alla persona, proprio perché chi professionalmente oggi si occupa di queste persone capisce che è tanto importante l'aspetto medico quanto l'aspetto psicologico. Noi ci siamo e ci saremo sempre, anche ovviamente per il San Gerardo per fare il nostro meglio affinché questa grande capacità professionale e queste apparecchiature rendano il meglio per chi ne ha veramente bisogno. Grazie ancora a tutti.